Piccoli disagi legati al maltempo nel weekend nel comprensorio salernitano. I problemi si segnalano in particolare alla viabilità, ma anche ad aziende del territorio. La Piana del Sele, tra venerdì e sabato, è stata colpita da un violento acquazzone, che ha determinato danni a serre e a campi. Ha battuto anche un traliccio dell'Enel a Santa Cecilia. Problemi anche ad Albanella, con il crollo di alcuni pali della linea telefonica. Sabato, invece, a Sant'Angelo a Fasanella, è crollato una porzione di muro adiacente all'SP12. Gli uffici comunali hanno sollecitato la provincia ad intervenire per evitare problemi alla circolazione. Disaggia anche nel Golfo di Policastro, in particolare a Villa Ammare, dove il maltempo aveva già determinato non pochi problemi la scorsa settimana, con l'abbattimento di alberi di grosso fusso e danni ad un centinaio di abitazioni. Questa volta qualche disagio lo ha creato il vento con il crollo di alcune tecole da un'abitazione della località turistica. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza.